Musica Salve gente, io sono RiverPony e qui siamo su un gioco nuovo Un gioco che si chiama 5 Notti con tua madre No, non è vero, si chiama 5 Nights at Freddy's E' un gioco ov-ov che fa molta paura Specialmente perchè ci sono orsetti teneri e pucciosi che ti ammazzano l'anima Comunque, in cosa consiste il gioco? Siamo dei controllori notturni e dobbiamo controllare queste bestiole robotiche di merda che fanno paura Cioè, dobbiamo controllarle perchè di notte loro riviviscono e fanno paura e ti ammazzano la vita Ecco, in poche parole è questo Quindi saremo in una stanza con delle telecamere Una telecamera, cioè un tablet di merda con delle telecamere Noi dovremo controllare tutte le telecamere sperando che non ci ammazzino Ovviamente, nei punti morti farò dei tagli La telecamera e tutto il resto Ecco, c'è una chiamata Io adesso risponderò Vai, rispondi di pepponi Dov'è il telefono? Se trovo il telefono provo a rispondere Se si può rispondere No, no, risponderà da solo sicuramente Ok, un attimo Questi sono dei amici, amici bimbi bombi Che fanno molta paura però Mute call! Pam! Ok, possiamo già cominciare, forse Allora, qui abbiamo delle porte Delle luci e cose varie Che appunto spregano la batteria che abbiamo qui sotto Queste sono le telecamere Questi sono i nostri cari amici, fratelli, bimbi Vota, vita, vata, tv, tv, tv E queste sono le altre stanze E in pratica noi dobbiamo controllare tutte le stanze Pian piano, prendendoci paura Questa qui è la stanza in cui siamo noi Ovviamente tutto sprecherà la batteria E siamo fottuti Ok Siamo attenti Siamo alle 12 di... Vabbè, mezzanotte comunque Della prima notte Che è un po' bruttina Ah, non voglio sprecare Abbiamo già il 91% di batteria Ma cos'è questa mafia? Ma non lo faccio schifo Ok, calmi Tanta, tanto, tanto Sono ancora tutti qua? Sono ancora tutti qua? I nostri amici billi, polli, bulli 90% Uh Uh, è un bel gioco, no, davvero, perché la grafica non è male, anche se questa merda di cazzo di roba di merda ha una risoluzione per forza a 720p, quindi non posso aumentare né abbassare la risoluzione. E per ora il gioco è così, non posso farci nulla. Anzi, ho avuto anche di problemi a registrarlo, perché me lo dava sempre in fullscreen e io non potevo fare nulla. Ok, ci sono ancora tutti qua, a quanto pare. Altre stanze vicine a me non c'è nulla. Ok, la prima notte sembra abbastanza facile. Sento musichette strane. Prima stanza. Oh, 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 ne manca uno, dove sei amico? Dove sei amico? Dove sei amico? Dove sei amico? Dove cazzo? Oi. Oi. Perché non c'è caso? Calmi, prima stanza. Ah, è di nuovo qua, è riapparso, è tornato indietro, meno male. Uh, così si fa caro, così si fa caro. Ma al 79% siamo ancora... Ah, l'una di notte, stiamo migliorando, l'una di notte è bello. Ok, sono ancora qui. Siamo, siamo tipo ancora l'una di notte, madonna, non appare nessuno, mi sto cagando in mano. Perché questo gioco adesso potrà sembrarvi una cazzata, una cosa... Cioè, una merda totale. Però no, non è una merda totale. Spero che non sia una merda totale. Le due di mattina. Sono le due di mattina e noi siamo ancora vivi. Abbiamo il 72% di batteria, possiamo sopravvivere. L'usage è basso. Prima stanza. Mio Dio, dove sei? Ok. Mi manca... Sta qui? Dove cazzo? Oi? Oi? È qua? Eccolo qua. È questo. È questo, è questo, è questo. Ho paura, ragazzi. Ho paura. Le dorsi possono chiudere e aprire per non far passare gli amici pucciosi, però fa niente. Sta ancora qui questo. Prima stanza. È rimasto qua. Ok. Ma tipo... Si muove... Oh! Dov'è adesso? Dove sei? Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ne manca uno, eh. Ne manca uno? Ne manca uno? Ne manca uno. È troppo brutto quando lo vedi le persone. Ok, calmi. Oi, te vuoi fermare? Luce di merda. Ok, calmi. Una stanza? Dov'è finito? Oh, sono cieco io e non lo vedo io. Cioè, sono due cose. Sono uguali, però uguali. Ok, niente. Niente qui. Ehi, bloccati lui. Quanto odio quando si fermano così. Ok, qui. Niente. Qua. Oh, oh! Chi sei tu, piccolo bambino morto? Nessuno. Non si è affacciato nessuno da questa finestra, perché sono sicuro che è finto. Niente. Spengiti, Cristo banana. Ok. Quattro di mattina. È più bello così, no? Ancora tu. Ancora tu. Ancora lui. Sì, ancora lui. Ehm. Dov'è? Amico bimbo spanato. Nessuna parte. Nessuna parte. Perché è bello, no? Quattro di mattina. La morte si avvicina. E sto cazzi nostro. Ok. Ok. Quanto odio ste musichette. Dov'è? Sta ancora lì quello. Meno male che sta ancora lì. Ma io non ne trovo uno oppure... Boh. Perché la camera si è spenta? Dov'è essere più veloce a schifare queste cose, perché... Ah! Chiuditi! Ok. Si è chiusa. Non c'era nessuno. Giuro, 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 giuro. Ok. Bene, 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 bene. Se lo riapro c'è qualcuno? Ah! Ti voglio! Non guarda la merda! Ah! Devi scappare! Scappa, scappa, scappa! Ah, l'ombra lì me lo posta. Ancora lì stai? Ma cosa sei? Drogato di me? Ciao, bello urso. Ti voglio bene. No, sul serio. Ti voglio bene. Però... Sei andato via, vero? Sei andato via. Ok, sei andato via. Ok, non c'è più. 25% sono le 5, sono le 5. Sono le 5! Ciao, no, le 5! Ciao, no, le 5! Lo possiamo fare. Ci proviamo, o almeno. Ok. No! Ne mancano due! Cos'è? Dove sei? Ok, questo urso di merda fa paura comunque, eh. Oddio, sta qui! Ok, non c'è. Non c'è! Però mi fa paura! Ok, calmi. Oh! Oh! Ho visto degli sparaflash effetti brutti di merda? Che mi fanno paura? Oh! 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 Yeah! Yeah, sto cazzo! Nel culo, yeah! Seconda notte. Proviamo a fare la seconda notte. Se non ci riusciamo, beh, al prossimo video che probabilmente sarà quando tornerò dalle vacanze. Perché, perché ne sto facendo uno veloce. Adesso è tipo il 30. Dopo domani parto. No, 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 no! E domani dobbiamo fare... Basta! Questo è col di merda! Ecco, già ne manca uno perché... Ok. Sta qua. Guardate quanto è bruttino! Ciao! È un sorriso fantastico, devo dire. No, davvero. Beh, sorriso è uno nel cuore, proprio. Comunque, più andremo avanti nelle notte, più cose strane e brutte e malvagie succederanno. Quindi, non vi preoccupate che il gioco diventa sempre più pauroso. Adesso abbiamo visto un coso che appare, ma si muovono anche. Si muovono anche. Spero che non mi si muovano davanti, ma si muovono anche. Ne manca uno che non vediamo. Ne manca uno, Jimmy Boy. Sento passi. Ah! Non riesco a chiud... Non riuscivo a chiuderla! Non riuscivo a chiuderla! Madonna, il mouse mi è spoloso. Ok, calmi, 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 calmi. Camera uno. No! Stanno mancando tutti, ragazzi! Oh! 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 Dove cazzo sono finiti tutti quanti? Oh! Siamo... Siamo delle merde. Stiamo facendo schifo a questo gioco. Siamo delle merde. Siamo proprio delle merde. Oh! Siamo adesso io che ho trovato il male! Quando sento suoni di bambini che fanno cose strane, mi fa favore a questo gioco. Oh! Perché sono tutte rotte le telecamere? Perché sono tutte rotte le telecamere? Smetti di funzionare! Smetti anche tu! Oddio! Non posso usarla ancora? Non posso usarla. Non posso usarla la telecamera. Per quale motivo? Non ho idea. Non me la fa usare? Non me la fa usare? Non me la fa usare? Ah! Ah! Stardo! Qui? No, nessuno. Ah! Ah! Ma appaiono solo così, ma poi quando si muovono sono più brutte cose. Succedono brutte cose. Oi! Oi! Ok, se n'è andato. Se n'è andato. Se n'è andato! Ma non c'è... Merda. Cioè, in poca parola io devo rimanere qui per tutta la notte senza telecamera? Merda. È una merda sta cosa. Ah, ma per ora possiamo anche rimanere così, dai. No! Funziona di nuovo! No! 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 Ah, ma il restore funziona, però. Ma dove sono questi? Ah! Ci ho feccato la finestra! E là! C'è ancora! Le zitto un cazzo! Cosa ti vuoi mangiare? I bananini? Ehi, devo smettere di essere così troppo... Oi! Oi! Ancora lì? Ok, basta. Giorno, Billy. Come stai? Sei andato via? Sei ancora là? Ma te ne vuoi andare? Sei molto inquietante? Ok, la prima volta sei stato molto più inquietante. Ma adesso rimani... Ok, via. No! No! No, aspetta. Cioè, sei rotta pure questa adesso? No! Rimani là, perfetto. Così ti voglio, caro mio. Così siamo alle tre... Non riusciremo mai a sopravvivere, ragazzi. Se quel figlio di puttano non se ne va... Ancora lì! Guarda che è un coglione! Ehi, ma ti droghi? Te ne vuoi andare via? Ho capito che mi vuoi bene, vuoi mangiarmi l'anima e tutte cose del genere. Ma non sono così buono come pensi. Caro porca patata! Lui è pollo spank. È la versione più cazzuta di pollo spank. Vuole fottere. Guardami... Oh, mica se ne va! Basta, non posso spingere le cose così. Può essere brutto un po' avere un cazzo di pollo assassino lì. Però! Però diciamo che... Mi tengo pronto con la porta da chiudere. Anzi, non tocco neanche la mano con il mouse, perché tanto so che quando mi prendo paura la sposto, quindi sono fottuto. Ti vuoi togliere? Ma cosa sei? È rimasto lì per for... No, ci deve stare per forza. Fai, no, è il mio posto, questo l'ho comprato, perché... Oh, 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 si è tolto. AAAAAAAH! Non è salutare questo gioco. Non è salutare. Bene, questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Quindi vi ho fatto un po' di video, quindi avrete due video durante le mie vacanze, quindi un video a settimana praticamente, un video ogni cinque giorni, quattro e mezzo, non ho idea. Spero che vi sia piaciuto. Al prossimo video, che non so quando arriverà. Arriverà sicuramente, ma non so quando. Quindi, ciao! Eeeh... Bella, vi voglio bene. Vi vedete bene voi? Io vi voglio bene, ma non voglio bene a quella cazzo di volpe di merda! Non l'avevo neanche vista! Ah, era una volpe, era un lupo. Vabbè. Vabbè.